ehi tu 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 che stai guardando questo video sappi che per i prossimi 10 15 minuti staremo in compagnia quindi vediamo di andare d'accordo tutto chiaro ok ragazzi rieccoci qua con il nostro bellissimo cow con il nostro bellissimo cow riprendiamo da dove c'eravamo lasciati dove c'eravamo lasciati mi ricordo vabbè continuiamo comunque avevamo combattuto contro quel minchiazzo di coccodrillo ricordate proseguiamo subito proseguiamo subito che siamo in rita resisti bd1 bd1 ma spero non so più i tasti no ok ok ho c'è un'altra aspetta aspetta un attimo dove è andato dove è andato ok e siamo jedi o mica siamo attenzione qua che ci ci frigono eccoci ehi bravo bd1 mamma mia si è si è infortunato bd1 si è infortunato bd1 ragazzi clamoroso sostituzione all'ottantacinquesimo del primo tempo dai dai dunque il braccio connettore è andato ah è andato il braccio connettore mannaia la miseria è andato il braccio connettore vabbè dai a natale ne compriamo un altro per ora lo sistemiamo prova così hai già pure il flash bd1 guarda là la cripta la cripta stavo andando lì veramente andiamo dai andiamo alla cripta allora uscire da qui che cripta stiamo aspettando che vuole qua personalizziamo la spada laser colore verde facciamo verde no dai più bella quella di di youtube questo ce la cambiamo così così dai un po più cattiva bellissima verde la spada laser va bene andiamo caos perdiamo tempo dai 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 su su non perdiamo tempo è un po strettino tra uscita ti preoccupare un po stretto ma dovrebbe funzionare diamo mantieni vabbè ok esami una cosa scusami cosa devo essere i rampicanti vanno da qualche parte lo so lo so mannaia mi hai fatto mi hai fatto mettere una paura di qua dove si va un po bene aiuto eh ma qua mi frigo male qua mi frigo proviamo va bene si sto bene ti preoccupavi di uno dai ok li steam ci curiamo uno steam di guarigione sei pieno di sorprese è bravo bd1 meno male meno male c'è bd1 molto meglio grazie piccolo droide andiamo dai proseguendo proviamoci di nuovo no che proviamoci di nuovo ma che è un cane non è un droide è un cane benvenuto a bordo ok dai proseguiamo bd1 può curare le tue ferite non ricordi mai visto un droide smemorato qua c'è la corda per tornare giù ok ok nuovo emettitore ottenuto ok vabbè questa è tutta roba per la spada laser tutta roba buona comunque vediamo dove sbuchiamo qua allora aspetta un attimo non è che mi sono perso qualcosa qua giù no 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 ok qua c'è qualcosa c'è qualcuno ora o mai più ragazzi andata qua eh già si si dobbiamo andare proprio qua vai vai grande fenditura guarda che cripta mamma mia che c'è una mappa di dove siamo stati mh ok si cambia livello ok va bene come come la tolgo sta ma eh devo andare qua ho capito dai non andare qua perchè qua era alto vediamo dove ce la puoi fare ah no è lì che non ce l'ha ci sta niente qua giù vabbè andiamo dai eccoci qua eccoci qua ah oh sti cazzo di maneccio ecco qua un'altra cassa vai bd vai bd prendi un po' di roba qua dentro cosa hai trovato nuovo pon nuovo poncio vediamo boh bellissimo poncio dell'argentina vai proseguiamo dai senza perderci in chiacchiere aspetta vediamo un po' ah qua c'è un eccolo la c'è un nuovo punto di salvataggio nuovo punto di meditazione va meditiamo dai meditiamo beh riposare non anche no anche no anche no va bene qua richiama eco qualcuno ha usato questo strumento per arrivare alla cripta prendiamoci il puntino abilità eh vediamo un po' cosa possiamo migliorare eh 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 allora attacco con slancio vabbè solo questi tre la salve questo senza ombra di dubbio vai senza ombra di dubbio la salute perché qua ci fanno il culo come una balena Va bene Devo proseguire di qua per forza Giusto? Giusto Dove si va? Dove si va? Aiuto C'è un leone Paracal Paracal Non fare il minchiazzo Ok Bene Mamma mia Attenzione abbiamo due super È un boss questo Oh si è pappato Cattivo Non si fa niente Ragazzi non si fa No aiuto Non si fa niente questo qua Aia Cazzo mi ha morso Ah quel Puttana mannaia Riproviamo Ok No comunque non è un boss Perché non esce la Il nome sotto È un minchione come Non lo so Come tanti altri Però se iniziamo a morire così Eh stiamo a posto Stiamo a posto Fino a Pasqua Ok Riproviamo Va bene Va bene Riproviamo Ok Ok Oh guarda c'è una cassa Lì sopra Via Ok Qua siamo già stati più Allora Pariamo Prima di tutto Pariamo Aspetta che qua lo posso Non si fa niente Mamma mia Mamma mia Ok Li ho fatto malissimo Comunque Si dai dai Questa è Ah Tolltolltolltolltolltolltolltollto È caduto Che testa di minchia È caduto Si è suicidato Piano ragazzi Non facciamo scherzi Ma non è che ci salviamo da quello Scansiona 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 BD1 È il bogra Ah Cazzo Ma ce ne sta un altro Mannaccia Colosseo Mannaccia Do sta Do stai Rompi Cazzo Coglione Mannaccia Fanculo Va Sta un altro Ma quello è morto Ok Eh Che hai trovato Non hai trovato niente Non hai trovato È rosso Non si può usare Vabbè Continuiamo Sono sicuri Qua non Ci ammazza Qualcuno Vai Preseguiamo Vai Stiamo andando alla grande Vai Cau Vai Cau Qua c'è un altro Punto di meditazione Qua forse Non so se salvare Qua Se riposare Che dite voi Riposiamo E riposiamo Poi esce di nuovo quello Eh Vabbiso State avvisati Riposato Bravo Bravo Proseguiamo Vediamo un po' dove andare Ah Guarda c'è un Ornitoringo Morto Ora è un ornitoringo morto Ho visto un altro qua Scendendone ho visto un altro Eccolo qua Aspetta che muori Ah non l'ho preso Non l'ho preso Figura di merda Ora è morto Ora è morto Ok Oh c'è stanno Quanti cazzo Stanno di stile Minchioni Scanziona Scanziona Vabbè lo stesso di prima Ah no Pesce para Questo è il pesce para Va bene Pesce para Ehm Aspetta Do vado Vieni qui BD1 Che già Da soli Ci perdiamo Potrò sta Pensare pure a te Ah qua Ok Ehm Niente BD1 Là non ci arriviamo No E BD1 Ce ne dobbiamo andare E' inutile Che vuoi fare il Vuoi fare il super Dove stiamo Ragazzi Mi sto perdendo Aspetta un attimo Sto per Ah ma siamo arrivi Ma che Ma qua Qua dentro E' l'obiettivo Siamo arrivati Fammi capi Eh devo arrivare La quindi Ecco Obiettivo principale Mi porta Qua Non sto capendo Sarà qua dentro Io ci provo Oh Chi è Chi è sta gente Oh Che è successo Ah Bravo Scanziona Scanziona Zau Vedi qualcosa Lì Qua c'è E' un po' ripida E' la salita Non penso Di farcela Salire Uh Guarda lì Il ratto Il ratto pesce Il gatto Cane Che vuoi Dove va Aiuto Aiuto Ah ok Nuova abilità ottenuta Oh guarda Il piccolo Call Difficile maestro Dove aspetta un attimo Può sembrare impossibile Ma con la tenacia E la forza Come tu e alleate Affronterai qualsiasi ostacolo Va bene Grazie per la fiducia maestro Grazie Guarda che codino Che c'ha Corri e salta Verso le pareti Per correre su DS Ok Padawan Mi ha chiamato Padawan Guarda la mamma mia Corsa sulle pareti Bellissimo Vabbè qua mi sa che Sì Qua ce ne possiamo pure andare Eh BD1 Ripassavo vecchi trucchetti Non è roba per te Mi mostri di nuovo La scorciatoia Ok Mo dobbiamo andare A sta cripta Sta cripta Dobbiamo prendere Quest'ascensore Credo Vabbè Ok dai Usciamo da qua Prima di tutto Prima cosa Prima cosa Ah ecco Ora possiamo raggiungere Anche sto punto Qua Ok Arrampichiti Arrampichiti Va bene Qua Ci arriviamo No No Oh Spendo Dovado Padawan Ehi Padawan No non ci arriva Eh qua allora No No Dove minchia Devo andare Vabbè qua Ce la fa salire Saliamoci Vediamo un po' Di qua Allora dai Vabbè ho capito Di qua Di qua Minchia Si sta facendo Tutte le pareti Va bene Ah ecco Richiama eco Dai Qualcuno che conosceva L'ordine Jedi E io ora Come minchia Torno indietro Ah devo rifarmi Le pareti Ah mannaia Qua ci Iniziamo È molto grande Come area Di gioco Quindi Molto facile Perdersi Ma qua io non posso Scusa un attimo Zoomami un po' Io voglio andare qua Eh no Devo risalire sopra Devo ritornare sopra Però Tu giusti Ah qua Di qua Di qua Ok Torniamo sopra Vai cal Ah ecco Mamma mia Che minchione Non l'ho vista proprio Stata scalata Laterale Salviamo un attimo Qua Come cazzo Ah R3 Scusate Va bene Va bene Così Va bene così Vai Andiamo Andiamo Allora Ecco qua Già Già abbiamo un'altra Scalata Scalata Ovviamente Ci metterà scalate Laterali Dappertutto Per farci prendere la mano Col nuovo Bellissimo Comunque Sta roba Delle scalate Laterali Ah ecco Siamo già arrivati L'ascensore Sembrava più lontano Come si usa Come si usa Scalata 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 Vai Vai cal Non ci deludere BD1 Ah stai qua No Sono caduto Come un Papa Dai riproviamo Bene Ok qua c'è un altro Punto di salvataggio Ma è lo stesso Di prima Sì Stesso di prima Usiamolo Comunque Usiamolo Va bene Dove dobbiamo andare Ma io Siamo sicuri Che devo andare Di qua Per la cripta Dove Ah ok Sì sì Stiamo andando bene Allora Come da una cosa Ok Sì 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 Stiamo andando bene Chi è quello Spena un attimo Organizziamoci Aia Schiappone in faccia Mi ha dato Sto Min Pais Dove si va Ok devo sali qua Vai Vai cal Scala Cazzo di alpine Aiuto Ok 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 Andiamo di qua Vai Scaliamo lateralmente Oh siamo arrivati Alla cripta Eh Ridi e scherza Scherza e ridi Antica cripta Di bogano Ci vediamo lì Come corri Piccolo testa di minchia Vai 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 cal Eh Hai barato BD Hai barato BD Va bene Va bene Te la sei meritata Che piccolo minchietto Che sei Salviamo un attimo Qua così male che vada Ripartiamo da qua Non so se qua c'è qualche boss Qualche Qualche lupo minchia Oppese Oppese Vai cal Tocca Tocca Oh sta godendo cal Aiuto Mamma mia E' visto che vuol dire Essere un jedi E' visto Vai Entriamo in questa Cripta figa Questa cripta Forma di fighe Guarda che Spettacolo Incredibile Incredibile Andiamo andiamo Scanzioniamo Che cos'è Silenzio Tutto bene BD Ben fatto Chiunque tu sia Ah questo è Eno Cordova Che avevo lasciato E hai ottenuto L'accesso Alla cripta E a questa Registrazione Una delle tante Criptate Immagazzinate Nel droide Io sono il maestro Ino Cordova E anche se non conosco Il tuo nome Conosco il tuo scopo Il destino Dell'ordine jedi E' riposto Nelle tue mani Addirittura Questo Posto Questa Cripta E' un tempio sacro Realizzato Dalla civiltà Ormai scomparsa Degli zeppo Meditando qui Ho avuto Una premonizione Attraverso la forza Una visione Disventuta Ho nascosto All'interno Di questa cripta Un olocron geli Che contiene Una lista Dei nomi E delle posizioni Dei giovani Sensibili Alla forza In tutta la galassia Ah va bene Andando avanti Troverai la camera Interna della cripta Ma C'è anche Un'altra prova Posso affidare L'olocrono Solo a qualcuno Che abbia seguito Il mio cammino E che lo comprenda Ok ci sono Sono pronto Sono pronto Sono pronto Eh no Va bene Andiamo su zeppo Allora E che la forza Sia con te E con il tuo spirito Va bene Va bene Andiamo La messa è finita Andiamo in pace Che c'è? Così sei tu Il mio compagno Di viaggia Eh sì Non si era capito Cal Non fare il minchione Dai No raga No mi fanno piangere Così eh Così mi fate piangere Nascondermi Questa non è vita Non per un Jedi No Né per un droide Guarda si sta mettendo a piangere Bidiu Vabbè ragazzi Fermiamo qua questo video Ci vediamo Alla prossima Destinazione sbloccata zeppo Va bene Ok Alla prossima